Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è il nuovo episodio della Vedova Nera Challenge. Allora, vediamo una Georgia versione otaria semi spiaggiata, perché bene o male siamo in posizione retta, quindi non è che possiamo definirci propriamente spiaggiate. Siamo in bagno, sono quasi le tre della mattina e le sto facendo aumentare il carisma, sapete che per completare la challenge fra le varie cose c'è anche di portare il carisma a livello 10, quindi avendole messo il tratto animale notturno e visto che si è svegliata perché aveva fame, prima ho sfamato la bestia e dopo l'ho messa qui a esercitarsi col carisma. Qui invece abbiamo un esemplare di uomo bianco di razza caucasica con i capelli biondi e la barba nera per un qualche problema genetico probabilmente, non lo so, e dorme, è stato a lavoro, è tornato alle 21 e l'ho mandato subito a dormire e ora quando si sveglia, c'è adesso, dosha e shibo. Qui siamo entrati nel terzo trimestre e quindi partoriamo in giornata, ci siamo entrati un paio d'ore fa. Non dovremo partorire se i miei conti non vanno errati intorno a sera, verso sera. Sì, magari ne gioco 24 ore, ci ho vissuto nel gioco per una vita. Comunque, allora, la casa nuova non è ancora pronta, raga, cioè, mi viene da vomitare, a pensare a quante cose ho da fare e quanto tempo non ho, sostanzialmente. Spero per il prossimo episodio, ma non voglio fare... dove va? Boh. Cioè, non voglio neanche darvi fasse speranze. Ah, lui sta posando per i paparazzi, vabbè. Lascialo lì a lodarsi e imbrodarsi. Io ci provo, raga, ogni volta, vi giuro, ma dopo succede sempre... la lotteria! succede sempre il finimondo, non so perché, non ho mai tempo neanche di... non lo so, di andare al bagno al momento. Noi ci proviamo a vincerlo alla lotteria. Proviamo anche con lui. Noi ci proviamo sempre. Vestita così non è che stai proprio bene, però, col pancione. bene. Con quale vestito potresti stare meglio? Vediamo. Forse con questo. Sì, o questo o quello estivo. Sono più o meno simili. Tu sei ancora fuori? Sì. Vabbè, lasciamolo imbrodarsi, come si dice. Finché abbiamo tempo. Volevo vedere cosa c'era in frigo. A due, uno. Allora, visto che c'è un po' di tempo e lei non ha particolare fame, le facevo tipo cucinare qualcosa da mettere via. Così, a tempo perso. Speriamo bene, comunque, per la casa nuova. Vi giuro, raga. Chi lavora lo sa. Non avete tempo di far niente. Poi dipende anche gli orari che avete. quanto distanti lavorate rispetto a casa. Ma, boh. Io rimpiango veramente, sì, i tempi del liceo. Tanto li rimpiango. Ma rimpiango forse ancora di più i tempi dell'università. che per quanto la mole di lavoro e di studio, soprattutto, era tipo triplicata rispetto al liceo. Era un altro mondo ancora. Non avevi lezioni tutti i giorni. Potevi veramente organizzarti le cose come volevi. li rimpiango i tre mesi estivi. Li piango proprio come se fossero un mio caro che è venuto a mancare. Quando lavorate, veramente, non avete tempo di fare niente. Io non posso neanche farlo nei weekend. Quindi, il mio problema, raga, non so se ve l'avevo già detto, è che io e il mio fidanzato al momento non conviviamo, no? E stiamo a 50 km l'uno dall'altra. Quindi, un weekend vado su io da lui e un weekend viene lui da me. Dormendo a casa dell'altro. Quindi, quando io sono lì da lui, ovviamente non posso registrare, perché registro con un computer fisso. Quindi, cosa faccio? Me lo porto lì? Cioè, sarebbe un po' indaginoso. Monta e smonta ogni volta. Quando lui è qua, è proprio rarissimo che io registri, perché di solito passiamo il tempo insieme, no? Vedendoci due giorni a settimana. E quindi questo preclude parecchio. Se invece convivessimo, riuscirei a organizzarmi diversamente. Riuscirei a fare le cose anche il weekend, perché bene o male, siamo sempre insieme. Quindi devo fare tutto durante la settimana. E sono quattro video a settimana da registrare. E cerco anche di portarmi avanti, ma raga, è difficile. A volte è difficile. Faccio anche degli orari assurdi, quindi a volte è proprio... Mi viene quasi da piangere a volte. Ho una voglia di fare quella a casa, che non vi dico, perché ho delle idee in testa, vorrei farla, ma porca voglia, non ho il tempo. Cioè, o vado a letto alle tre della mattina, è chi va a lavorare dopo. Questa è la vita di noi poveri lavoratori. Quindi voi che siete ancora a scuola, sia essa l'università, sia essa il liceo, non so se ci sia qualcuno di più piccolo del liceo, per liceo intendo anche scuole professionali, insomma, scuola superiore, ecco. Però godetevela, cioè per quanto adesso vi sembri una palla mostruosa, godetevela davvero. Comunque, ora mi rendo conto di star facendo tipo seduta di psicoterapia, forse è meglio anche di no. Comunque, ecco, questa è la problematica fondamentale, raga. Non so se qualcosa vi avevo accennato, sicuramente. Ma lui non ha cambiato il look quando siamo andati a cambiare il look a Samuel, l'ultimo figlio. Non so perché non gliel'ho cambiato, boh. Vabbè, ce lo teniamo così. Quando il figlio diventerà bebè, che quindi gli cambiamo il look, sistemerò anche qualcosa a lui. Ah, sì, lui lavora. Oh, lui lavora, ops. Dalle 15 alle 21 fa. E noi siamo sempre a casa da sole, stiamo anche dormendo un sacco perché siamo esauste. secondo me siamo sempre esauste perché ormai siamo anche vecchiotte. Famosa gravidanza geriatrica di cui parlavamo nello scorso episodio. ho notato che più gravidanza e la simmina ha e più è avanti con l'età, più tende a stancarsi. O questo, oppure si tendono a stancare tantissimo quando aspettano gemelli. Gemelli o trigemini, lì fra pipì che sparisce, cioè pipì che, sì, insomma, scappa sempre, fame che sparisce, cioè ha fame ogni tre secondi. e stanchezza a go-go. Quindi è uno dei due sintomi solitamente. Fateci caso se non ci avete mai fatto caso. quindi qua c'è il fatto che lei è vecchia, è incinta, ma siccome va giù parecchio in fretta può anche essere che sia uno solo, ma essendo lei vecchiotta, avendo avuto tante gravidanze, la situazione va un po' così. Ci possono essere tantissime motivazioni in realtà. Qua hanno già mangiato. Qui era arrivata apposta. Vediamo chi è e che cosa vuole soprattutto. Allora, cos'è? Boh, ce n'è anche la stellina. Boh proprio. Comunque, rispondetevi a questa domanda giù nell'info, sì, nell'info box, ma che cazzo dico? Giù nei commenti. Ci portiamo via al teschio della pianta morta? La pianta mucca, la pianta mucca morta? Io me lo porterei via nella casa nuova. Siccome devo tirar su tutte le foto, quindi un giretto per l'ustrativo prima di vendere la casa e trasferirci, lo devo fare. dite che mi mi metto anche questo questo scheletro oppure lo lasciamo qua, cioè lasciamo stare. Sta abbassando la relazione con i primi figli. Cerchiamo di recuperare un attimo. Guarda che ti serve anche socialità, quindi uniamo l'utile del dilettevole. In bagno davanti allo specchio. Giustamente. adesso li chiamiamo tutti i figli, mannaggia il mondo. Tutti li chiamo. Nathan ha anche una relazione bassina, cioè si sta abbassando. Non so queste telefonate quanto la tirino su, ma che dopo non mi chiamino una madre disinteressata, eh? Perché li picchio tutti. boh, abbiamo chiamato tutti. Dai, anche Ugo, alla fine l'abbiamo cresciuto noi. Anche se appunto è nostro figlio acquisito, non è nostro figlio biologico, ma alla fine una famiglia non si fa col sangue, ragazzi, ricordatevelo. Una famiglia si fa con l'amore. La mandiamo a letto di nuovo. Ah, già le nove. Salve, tornato tutto bene. due due bene. Allora, mandiamolo a letto. Lei non l'avevo fatta dormire seria, perché in teoria non dovrebbe mancare troppo al parto. No, vuoi fare la pipì prima? Facciamola anche mangiare, perché secondo me fra un paio d'ore partorisce. Quindi è meglio che la facciamo mangiare. Non so neanche come chiamarla. Ecco, eccola qua, eccola qua, vedete che sbrillucica, vi avevo detto la sera. Bene, raga, avete fatto le vostre scommesse negli episodi scorsi, avete lanciato la vostra monetina, testa o croce, croce o testa, il dado è tratto, benissimo, puttanata detta. Quindi adesso vedremo, facciamola, finire di mangiare, forretta, non ho voglia di andare in ospedale, ve lo dico, questo lo partoriamo in casa, come facevano le nostre nonne. dobbiamo comprare la culla, balle dell'orso, balle dell'orso, allora, andiamo su, solito, in questa stanza qua, allora, balle del musso, musso è l'asino, perché se lo stessi chiedendo, allora mettiamo la gialla intanto, che è unisex, poi eventualmente la cambiamo, se no la teniamo anche gialla, e veniamo a partorire, allora, lui si chiama Bailey di cognome, ok, non so neanche che nome dare a sto, a sto povere creatura, povera, proprio sotto tanti punti di vista, speriamo non erediti il naso dal padre, o la troiaggine dalla madre, la genetica, sempre un mistero, una femminuccia, ok, allora, Bailey intanto di cognome, e, di nome, non ne ho la più pallida idea, io avevo detto che non lo sapevo, mi suona in testa sto nome, Cassandra, che non mi piace neanche poi, no, non mi piace, Cassandra Bailey suona bene però, e la chiamiamo, la chiamiamo, la chiamiamo, la chiamiamo, Cassandra, no, non mi piace, e, non lo so nemmeno io, non ne ho, vi giuro la più parola idea, Hayley, Hayley Bailey, si suona bene, Hayley Bailey, è una sola, è una sola, molto bene, meglio così, Hayley Bailey, scusate, mi fa ridere, Hayley, è anche un bel nome, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, bene, bimba sistemata, mamma partorita, cioè, sì, vabbè, possiamo andare a dormire, sperando che la bimba non si svegli ogni 5 minuti, lasciamole anche la culla gialla, tanto, per non cambiare colore ogni 3 secondi, panico pregenitoriale, sei un po' in ritardo comunque, c'era scritto, reagisci con disgusto, avete visto, è ora di andare, vabbè, questa ha partorito praticamente 3 anni fa, la bambina ormai si sta già per laureare, tu vai in panico adesso, avete visto come corre, hai un rincoglionito che corre così per casa, eppure un figlio già ce l'hai, quindi, mi corre ancora così, oddio, peccato che le copertine di queste sfide siano già fatte, se no avrei fatto la foto di lui che correva così, oddio, che idiota di uomo, cioè vi giuro, guardate, c'è un naso che fa provincia, anzi, fa tutta, fa tutta lo stato, allora qui c'è Trento, e qui sotto c'è Ragusa, in mezzo ci sono tutte le altre città, sicuramente ce n'è qualcuna che stava, molto più al nord di Trento, ma io non sono ignorante in geografia, quindi portate pazienza, comunque sì, vi fa tutta la penisola, se lo guardate da dritto, guardate anche la forma dello stifano, mancano le isole, mannaggia, mannaggia le isole, poi Ragusa è in Sicilia, quindi ma che chiezza, vabbè, allora c'è la Sicilia perché è più vicina, ma la Sardegna, mannaggia, mannaggia, Sardegna, dobbiamo crearla, ciao amici sardi, ovviamente, questo sono io, ironica, che cerco di fare la persona divertente, quando in realtà sto sparando, una serie di puttanate, a non finire, che c'è una voce interiore dentro di me, che mi dice, Alessia smettila, stai ferma, abbia un po' di amore per te stessa, e rispetto, è un'altra parte di me, che decide di ignorare bellamente, questa voce, che sarebbe anche più saggia, decide di ignorarla bellamente, e di continuare imperterriti, per la propria strada, comunque, allora, tu che suoni, potresti venire ad allenarti un po' qua, vabbè, oggi siamo anche a casa, stasera siamo a casa, bene, mica tanto, comunque, pianoforte, appena all'inizio del livello 4, lei, appunto avete visto, che l'abbiamo, oh gli ignomi, no, no gli ignomi, malefici bastardi, allora, potremmo sì, appendere le decorazioni, dove sono queste decorazioni, ah, qua me le ha messe, boh, vabbè, oddio, avete visto, oddio, guardate, tutti i fulmini, che sono arrivati sul tetto, quante pietre, oddio, se avete i tetti così, ragazzi, andate a darci un'occhiata ogni tanto, qua ci sarebbe anche da pulire, però non ci riusciamo ad arrivare, ovviamente, dai, ci ho fatto caso adesso che ho visto una robina verde in fondo, anche qui, ma lo sapevo che ci arrivassero anche sul tetto, e che forse su un tetto spiovente, tipo questi, per dire, tetti normali, mi sa che non c'è niente che viene lasciato giù, guardatelo qua, infame, nano infame, per te solo lame, calcialo gnomo, perché, vabbè, e se proviamo ad accontentarlo? Questa è arrivata a livello 9, no, arriviamo prima a livello 9, tanto siamo al 96%, tanto Hailey si è rimessa a dormire, 100%, ok, ah no, ultime parole famose, no, Alessia, ma cosa fai? Ecco, adesso si è bloccato tutto, infatti il gioco, ha detto anche tu Alessia, che cacchio fai? Ah ok, risolta la situa, ok, l'ognomo qua è sparito, alla ricerca degli gnomi malefici, guardali qua, tutti e tre, allora, lui aveva detto il caffè, proviamo, ma tanto, di solito non la imbrocchiamo mai, non so poi sulla base di cosa vadano ste cose, a lui diamo, la torta alla frutta, cosa dite? O la torta normale? Torta alla frutta, proviamo, no, gnomo ursino, amico da giardino gnomo felice, cioè ci stiamo costruendo anche un rapporto, e a lui diamo il, cuo del futuro? Vabbè no, questo mi lascia merda in giro per caso, implora il perdono, dai dopo proviamo a implorare, ah beh, nemmeno con quello ci siamo riusciti, figlio di, che stronzo, ma siamo seri? Gli gnomi osservano, per aver fatto arrabbiare l'ognomo, o gnò, proprio gnò, Giorgio ha gravemente irritato gli gnomi da giardino, e ora è agitata, ma, ma, guarda, puoi anche andare a fartelo me, non diventiamo volgari, Alessia, non diventiamo volgari, io gli, gli odio quegli gnomi bastardi, ah, Ray Jansh, aspettate che me lo segno, come al solito, chi è il vincitore, perché diventerà il prossimo marito, visto che ha vinto la lotteria, aspettate che me lo scrivo, madonna, questo nome è difficile, devo guardare lo schermo 70 volte, Chandran, che poi Ray Jansh, forse è un uomo, aspettate che non lo so, vabbè, comunque, adesso magari stiamo con, con Thorne, ancora un pochettino, giusto, perché ci abbiamo messo una vita per conquistarlo, almeno, infatti, perso la lotteria, almeno non, non buttiamo via tutto subito, però il prossimo marito, sarà marito o moglie, perché ripeto, non so, se poi questa persona sia un uomo o una donna, dal nome parrebbe un uomo, però non vuol dire niente, diventerà il prossimo coniuge, così ci guadagniamo un altro milionerissimo oleone, malefitta, non bisogna mai rivelare, mai rivelare il nome del vincitore, è come quando si vince alla lotteria, nel mondo reale, voi non sapete il nome e il cognome della persona, se no, se io vincessi la lotteria, non vorrei mai che la gente sapesse, che io l'ho vinta, non so voi, che dopo sti bastardi vengono a chiederti, sono tutti amici dopo, vengono a chiederti prestiti, soldi e menate varie, tutti amici, fatalità, gente che non hai mai visto in vita tua, tutti amici, ti vengono a derubare, perché sanno che tanto tu hai i milioni, cara l'ex moglie, quindi da un lato è meglio essere poveri, come la morte, non hai niente, nessuno ti chiede niente, dall'altro anche essere ricchi, senza che nessuno lo sappia, tipo trasferirti dall'altra parte del mondo, dove nessuno sa niente, vabbè, stiamo divagando, questo episodio è stato un divagamento dopo l'altro, sappi Thorne, che comunque sei uno dei pochi infortunati, forse l'unico, no, c'è stato qualcuno che è arrivato fino all'età da bebè, del proprio figlio, sei uno dei pochi infortunati comunque a poter vedere la propria figlia, almeno diventare bebè, ah si è rotta, quindi vediamo di non darlo per scontato, e di portare nel cuore questi momenti, perché potrebbero non ripetersi, goditi tua figlia, io devo ancora decidere come ucciderò, Bailey, Thorne, il nostro amico Thorne, non lo so nemmeno io, non lo so nemmeno io, non lo so decidermi, mi avete suggerito parecchie morti, molte le abbiamo già fatte due o tre volte, cioè basta, nel senso, però non so nemmeno io cosa fare, quindi, mi devo ingegnare, tanto purtroppo in questo episodio sopravvive, quindi, per questo episodio non ci possiamo fare molto, allora, tu sei qua, siccome fra poco diventi anziana, stavo ragionando sul mondo, potresti venire a fare ancora un po' di allenamento, prossimo episodio ti festeggiamo, eh sì, prossimo episodio, Giorgio diventa anziana, sto giro non ci sono sieri della vita che tengano, come l'altra volta, se continuo a farla diventare giovane, raga, non ne torniamo, non ne veniamo fuori, challenge deve finire prima o poi, lo so che vi dispiace, dispiace anche a me, però insomma, non è, ah usato, neanche quando si rompe la lavatrice, questo era quello che era nella lavatrice rotta, che succe, ah, Thorne, vieni a cambiare il pannolino, papà Thorne, non credo abbia mai cambiato un pannolino in vita sua, probabilmente, quest'uomo, ecco, allora vieni tu, allora, ributtiamo in lavatrice sta roba, perché roba sporca, io non me la metto addosso, ah ok, allora, vieni giù, ti sei allenata proprio tanto? sì sì, le dita per scrivere al computer ti sei allenata? cretina, poveretta, l'ho offesa, ora mi sento in colpa, guardate che naso, raga, ma questo qua non fa solo la penisola italiana, fa anche la penisola iberica, la penisola balcanica, tutte le penisole fa, tutte, guardate qua i nani malefici del boia, del boia scannato, brava, allenati, che dopo se ti faccio fare sta roba da vecchia, metti un colpo, non è vero che, però non so, è a 195, il terzo appuntamento, andiamo, magari, il prossimo episodio potremo fare appuntamento per festeggiare il compleanno, e arriviamo al livello d'oro, dovrebbe essere l'ultimo, se non sbaglio, sì, è l'ultimo punto dell'aspirazione romantica seriale, che vi ricordo bisognava completare anche questa, per vincere la sfida, quindi per fare un po' un ricapitolo, la sfida termina alla morte della vedova nera, la vedova nera deve aver sposato e ucciso almeno dieci mariti, noi li abbiamo superati da un pezzo, e deve aver avuto almeno un figlio con ciascuno di loro, fatto anche questo, dopodiché la vedova nera deve aver raggiunto il livello dieci di carisma, noi siamo al livello nove, e deve aver completato l'aspirazione romantica seriale, e a noi manca il terzo appuntamento che facciamo appunto nel prossimo episodio, quindi direi che siamo, oddio, rotta anche l'asciugatrice, porca boia, direi che dicevo siamo, siamo messi molto bene, e per posare il bucato per terra, non credo ci voglia una laurea in ingegneria nucleare comunque, magari mi sbaglio, c'è qualche ingegnere nucleare fra di voi, in caso ditemi, all'università vi hanno insegnato a tirare fuori il bucato dall'asciugatrice, chiedo per un'amica, c'è, dai, fai partire il bucato, poi ti mando a letto, fatemi sapere cosa ne pensate del bellissimo nome Hailey Bailey, a me fa morire da ridere, e io vi lascio qua, con questo episodio in cui Giorgia sarà un'adulta per l'ultima volta, lasciatemi un piaccio al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo nel prossimo episodio, ciao a tutti ragazzi, Ciao a tutti,